L'impero bizantino, conosciuto anche come l'impero romano d'Oriente, fu una delle grandi potenze dell'antichità e del Medioevo. Esso sopravvisse per oltre un millennio, dal 330-10, anno in cui Costantino trasferì la capitale dell'impero romano a Bisanzio, fino al 1453, anno in cui Costantinopoli cadde sotto l'assedio ottomano. Durante questo lungo periodo di storia, l'impero bizantino ebbe un'influenza significativa in Europa e nell'Asia occidentale, compresa l'Italia. L'arrivo dei bizantini in Italia può essere datato all'epoca delle invasioni barbariche che colpirono l'impero romano nel V secolo d.C. Alla caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia fu divisa tra vari regni barbarici, tra cui i Visigoti, gli Ostrogoti e i Vandali. Nel 535 d.C., l'imperatore bizantino Giustiniano I, desideroso di riconquistare l'Italia e riunire l'impero sotto il controllo bizantino, inviò il suo generale Belisario a sottomettere i regni barbarici. Ne seguì un periodo di conflitti che infine portarono all'annessione dell'Italia all'impero bizantino. L'importanza dell'Italia per l'impero bizantino era principalmente economica e strategica. L'Italia era una regione ricca e fiorente, con importanti città commerciali, come Ravenna, Napoli e Venezia. Inoltre, la sua posizione geografica la rendeva una base ideale per le operazioni militari e una via di transito verso altre parti dell'Europa occidentale. Di conseguenza, l'Italia ebbe una grande importanza sia dal punto di vista politico che economico per l'impero bizantino. Durante il periodo bizantino, l'Italia godette di un relativo periodo di pace e stabilità. I bizantini introdussero riforme amministrative che favorivano la centralizzazione del potere e la promozione della cultura greca e cristiana. Furono costruite nuove chiese, monasteri e fortificazioni, molte delle quali sopravvivono ancora oggi come importanti testimonianze dell'influenza bizantina in Italia. Un esempio emblematico di questa influenza era Venna, che divenne la capitale bizantina in Italia. La città divenne celebre per i suoi magnifici mosaici, che abbelliscono ancora oggi le chiese di San Vitale, Santa Pollinare in classe e il mausoleo di Galla Placidia. I mosaici bizantini di Ravenna sono considerati tra i più importanti al mondo, con i loro ricchi dettagli e colori vivaci che mostrano scene bibliche e imperiali. Nel settore economico, l'Italia sotto il dominio bizantino continuò ad essere un'importante crocevia di scambi commerciali tra l'Oriente e l'Occidente. Le città portuali come Venezia e Napoli prosperarono grazie al commercio con gli stati orientali e alla loro posizione strategica. Inoltre, l'agricoltura e l'industria manifatturiera fecero registrare significativi progressi, grazie all'introduzione di nuove tecniche e ai prestiti finanziari da parte dei bizantini. Tuttavia, l'importanza e l'influenza del dominio bizantino in Italia non durarono a lungo. L'impero affrontò una serie di minacce interne ed esterne che indebolirono la sua capacità di mantenere l'Italia sotto il suo controllo. Tra queste minacce vi furono le invasioni dei Longobardi, un popolo barbarico proveniente dalla Germania settentrionale, che fondò il proprio regno nel nord Italia a partire dal VI secolo. I bizantini furono costretti a ritirarsi nella regione del sud Italia, che divenne nota come Longobardia e fu costituita da una serie di ducati bizantini. Alla fine, l'influenza dei bizantini in Italia fu limitata al sud, mentre il resto del paese cadde sotto il dominio dei Longobardi, dei Franchi e degli stati papali. Tuttavia, l'eredità bizantina in Italia fu significativa. Gli artisti, gli architetti e gli scienziati bizantini diffusero nuove conoscenze e competenze in Italia, influenzando profondamente l'arte, l'architettura, la musica e la letteratura it. Aliane, le chiese bizantine sopravvissute in Italia rappresentano un importante patrimonio culturale, che testimonia l'influenza duratura del dominio bizantino in Italia. In conclusione, il popolo bizantino regnò sull'Italia per diversi secoli, portando stabilità, prosperità e una nuova visione culturale al paese. Benché la loro influenza sia diminuita nel tempo, l'eredità bizantina in Italia rimane presente e visibile ancora oggi. L'arte, l'architettura e la cultura bizantina si intrecciano con l'identità italiana, conferendo una profondità storica e una ricchezza culturale che continuano ad affascinare e ispirare.